che ha visto che sei suo amico Sonic non è un mio amico e io sono stufo marcio di vederlo trasformare tutto in un gioco o ci restituisce quello smeraldo con le buone o dovrà vedersela con me si prudente Knuckles ha detto che distruggerà chiunque userà avvicinarsi allo smeraldo lo vedremo sarà un duello all'ultimo sangue di solito gli anatroccoli mi piacciono ma quel piccoletto mi è veramente antipatico vi aiuterò io c'è solo un modo di riavere la vostra preziosa acqua io il vostro beneamato re Julian devo semplicemente offrire un piccolo sacrificio ai miei buoni amici gli dèi dell'acqua dentro il vulcano e a che serve? a che serve? eccellente domanda il mio sacrificio va dentro il vulcano poi gli dèi amichevoli mangiano il mio sacrificio molto buono grazie del sacrificio tieni prendi un altro sacrificio no basta così per oggi senti guarda che mi offendo se non prendi un altro sacrificio ho detto che non voglio un altro sacrificio va bene guardati sei tutto pelle e ossa no ho detto basta così chiaro gli dèi mangiano il sacrificio sono riconoscenti mi danno un po' della loro acqua oh certo si chiama Flint Lockwood diatonic super mutating dynamic food replicator ho abbreviato il faldese madafer flinze madafer flinze madafer flinze madafer flinze madafer flinze madafer flinze madafer manny riprendi tutto farai il cibo ora sai cosa mi piace di questa biblioteca scooby? i libri? no il fatto che è molto molto lontana da quel fantasma l'hai detto è bello che velma si fidi di noi al punto da affidarci un incarico pizza 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 no già ci risiamo Valentino un altro fottuto giorno con Val ehi 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 che vita del cazzo signor Vox signor Vox signor Vox signor Vox che cosa pensa dello sterminio anticipato? miei cari noi della Vox Tech Enterprises siamo sempre i pionieri dell'innovazione e ora con lo sterminio imminente stiamo indirizzando la nostra attenzione sulla vostra protezione siamo lieti di annunciarvi che la Vox Tech Angelica Security sarà realtà affidateci la vostra sicurezza